Buonasera e benvenuti alla I ragazzi in maglia bianco celeste, palla dentro e poi esterno della rete Corner veloce dell'Alitalia, dentro si divorano il gol Calcio di punizione dalla gran distanza per l'Alitalia Calcio Il tocco punizione di seconda, Lucci si distende bene e riesce a deviare in corner, parata non facile Dal susseguente calcio d'angolo ad uscire battuto lungo sul secondo palo, staccano di testa, faccia esterna della traversa Alitalia in continua pressione e De Angelis in difficoltà, dalla gran distanza può caricare il destro Galluccio Si allunga Lucci bene e alza sopra la traversa Anche nella ripresa Alitalia che offende con convinzione, De Angelis costretto sulla difensiva Palla in verticale, lo stop, si gira in area di rigore, Lucci è ancora superlativo e salva il De Angelis De Angelis che mette la testa fuori dal guscio, manovrando su pensa bene a centrocampo, altra palla persa Dalla gran distanza, ma Lucci stasera non può essere superato Il De Angelis che sposta la palla sul settore sinistro, azione paziente, palleggio e sinistro, parata di Calcaro Il De Angelis spinge, viene concesso vantaggio, cross dalla sinistra e tutto solo Santoro in area, spara su Calcaro Predominio territoriale, ora del De Angelis, sempre sulla sinistra, rientra ancora Santoro, la palla va fuori L'Italia sembra aver esaurito l'energia, allora il tiro e il diagonale che porta in vantaggio il De Angelis Dopo una lunga pressione nella ripresa, l'1-0 che porta avanti i padroni di casa L'Italia costretta a reagire immediatamente spostando palla sulla fascia destra, parte un cross dentro, lo stop ed è la rete del pari Il pari di Mainella Vogliono attaccare quelli dell'Albi Celeste che non ci stanno a pareggiare in casa Allora da fuori l'appoggio dentro l'area, ma Calcaro ancora super Partita apertissima, ma può accadere di tutto in questi ultimi minuti in cui il match si è acceso Palla lunga, spizzata e solo in area, miracolo di Lucci e ancora Lucci incredibile Una partita stupenda, probabilmente solo all'ultimo Termina qui, 1-1 tra De Angelis e Alitalia Calcio Punteggio giusto ma che scontenta tutte e due le compagnie